E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Avete visto il nuovo sound, vi è piaciuto, dite la verità. Oggi si vola su Doge con Doge, in realtà io odio Doge, odio le shitcoin, però volevo un po' entrare nel mood. Comunque oggi giornata positiva per Bitcoin, quindi mi sento più bullish del solito, sono particolarmente gasato e voglio gasare un po' anche voi. Vi mostrerò poi quando andiamo ad analizzare il grafico come mai mi sento bullish e poi per il resto niente, solite cose, andiamo a dare un'occhiata alle notizie, andiamo a rispondere alle vostre domande. Insomma voi come sempre state sul pezzissimo, vi voglio belli carichi e che dire, pieni di domande. Come al solito le vostre domande sono il cuore di queste live, oggi purtroppo non ho nessun promo code da darvi perché li ho finiti e quindi per quelli dovrete aspettare ancora un po'. Però spero che siate carichi lo stesso. Comunque io partirei subito in quarta senza perdere troppo tempo con le vostre domande, anzi prima una cosa la devo dire, vediamo se è questo... Sì esatto. Ho visto che ci sono ancora purtroppo sotto i miei video di youtube i commenti scam, quindi io vi ricordo ancora di non cascarci. Sembrava troppo bello che fossero finiti per un po', mi hanno dato tregua, ma ho visto che adesso stanno tornando a bombardare. C'è pieno di bot che si spacciano per me, mi creano dei profili cloni che sono uguali al mio, senza ovviamente nessun video, un canale clone, che viene utilizzato per commentare sotto i miei video da dei bot che scrivono delle frasi che non hanno nessun senso e vi invitano a contattarli in privato, cosa che io ovviamente non farei mai nei commenti così sotto i video, vi pare, in particolare riempiendo tutto di simboli per evitare i filtri anti-spam di youtube che non li riesce a intercettare e purtroppo rimangono lì. Per distinguere i commenti veri miei da quelli scam, potete andare a controllare che il nome utente, quindi il nome del mio canale, sia evidenziato in neretto, in grigio scuro, e soprattutto che siano commenti che hanno un senso in particolare. Se cliccate inoltre sul nome utente, sul canale, se è il mio vi reindirizza il mio canale, se è uno scam vi reindirizza al canale vuoto, senza nulla. Quindi mi raccomando, non ci cascate, ve ne prego, perché io non vi posso assolutamente aiutare. Bene, ora possiamo partire con gli argomenti di oggi, primo dei quali Ripple che prepara una, vuole fare un IPO. Io ho detto, ma non ci credo, cioè, cosa si inventano ancora questi quattro un po'? Perché a quanto pare con l'SC, la SEC, si stanno un attimino calmando le acque, in cui apparentemente Ripple si sta difendendo dal fatto che è stata ditata di essere una security, vi ricordate, in Giappone hanno difeso Ripple dicendo che non è una security, ma perché poi dei grossi fondi giapponesi apparentemente sono investitori, insomma c'è tutto un giro dietro anche lì, sta di fatto che una volta finita questa causa, questa lotta con la SEC, Ripple vorrebbe fa, sta pensando di fare un IPO, ci mancava giusto questo, ecco, non lo so, non so veramente più cosa pensare, sta di fatto che oggi il mercato ha reagito abbastanza bene, sembra, perché Ripple è da un po' di giorni che sta pompando, in effetti, sta un attimino recuperando l'ultimo dump, che era il dump poi che è stato causato proprio dalla notizia della SEC. Comunque, chiudendo la parentesi Ripple, poi ho trovato questa infografica, non so neanche come chiamarla, questa piccola analisi, che è stata fatta da Messari, una piattaforma che avevo già presentato, perché al suo interno ha delle watch list, delle liste di coin, che sono all'interno dei portafogli di alcuni hedge fund, e quindi possono essere interessanti da seguire, semplicemente per vedere chi ha investito in cosa, ecco. Hanno fatto una ricerca sondando i 35 maggiori hedge fund, venture capital, chiamiamoli un po' come vogliamo, per andare a vedere quali coin sono nei loro portafogli in maniera più frequente. E la più presente è Polkadot. Potete vedere poi in questo tweet, che vi ho condiviso anche sul mio canale Telegram ieri, mi pare, il resto della classifica, insomma, ce ne sono tante appartenenti in particolare a due settori, guarda caso, blockchain alternative e DeFi sono sempre i settori più in trend in questo periodo. Poi, ultima notizia di oggi, che in realtà è di ieri, anche questo, oggi non c'era niente di particolare, non è successo niente di particolare, che io sappia, magari mi sono perso qualcosa, una nuova legge in Germania apre le porte a dei fondi che si chiamano Spezialfonds, io non so il tedesco, non l'ho mai saputo e non lo so pronunciare, perdonatemi amici tedeschi, che sono una categoria particolare di fondi di investimento, che in realtà non hanno neanche un loro equivalente conosciuto, ecco, non sono dei veri e propri hedge fund, sono dei fondi appunto a gestione speciale, ecco, particolari, con regole particolari, sono più di 4.000 in Germania, e con questa nuova legge, a partire dal primo di luglio, sono autorizzati, autorizzati, attenzione, ad allocare fino al 20% delle loro risorse in cripto. Questa è una gran, gran notizia per l'Europa, perché la Germania sta, oltre alla Svizzera, che è una delle pioniere a livello mondiale, anche nel mondo delle cripto, anche la Germania si sta facendo vedere essere abbastanza avanti, ecco, e quindi assolutamente positiva, perché potrebbe portare dell'altra buy pressure, dell'altro interesse da parte degli investitori, anche l'investitore medio, che vuole la sua esposizione sulle cripto, e dice, voglio uno strumento regolamentato, uno strumento normale, che non mi costringa a dover creare account su exchange, a fare cose, perché magari uno non è capace, non ne ha voglia, e allora vuole il suo fondo, che investe in cripto, lo espone in cripto, ed ecco, una potenziale soluzione, ci andiamo sempre più a gamba tesa nel mercato, non c'è niente da dire. Ultima cosa, seguitemi su Twitter per un po' di sani post, insomma, sarcastici, ironici, un po' di cavolate, un po' di leggerezza, non aspettatevi su Twitter le stesse analisi che faccio su Instagram, le news, perché tengo due registri diversi, ma volutamente, perché altrimenti poi tutti i canali sono uguali, e diventano tutte copie di se stessi. A tal proposito, ho trovato l'ultima perla, safe Jesus, cioè ormai veramente, l'inventiva degli shitcoiner, è arrivata a livelli incredibili. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, chiudiamo la parentesi iniziale, del nostro, della nostra rassegna stampa cripto, e passiamo alle vostre domande. Mi raccomando, vi voglio carichi, vi voglio super mega carichi, no, vedo che qualcuno mi sta chiedendo di fare anche io una shitcoin, ma non ho intenzione di farlo. Allora, 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 qua ormai i primi messaggi siete sempre voi che mi dite che sono in ritardo, avete ragione, spettacolare la nuova sigla. Una domanda, potresti dare uno sguardo a UniBTC? Sono entrato a circa 60k sat e sono in profit, ma con la candela di oggi, sembra chiudersi con un engulfing bearish, che ne pensi? E oggi, con la botta di bitcoin, che io scherzosamente ho detto è tornato il super ciclo, chiamate il ginecologo, perché appunto siamo in pieno super ciclo, no, ovviamente sto scherzando, hanno un po', ne hanno un po' risentito le altcoin, anche ethereum, avevo visto che era un attimino inciampato, ethereum bitcoin, su alcune ci sono dei costrutti engulfing bearish, hai ragione, che potrebbero dare il via a una piccola fase di ritracciamento, attenzione, non vuol dire inversione, andiamo a vedere Uni però, perché tu hai chiesto Uni, andiamolo a vedere, allora, effettivamente è così, nel senso, abbiamo una prima candela di offerta, considera comunque che il macro è estremamente bullish, quindi non c'è motivo secondo me, io non chiuderei ancora posizioni in questa situazione, perché guarda, tu hai appena rotto un massimo storico, l'hai rotto con convinzione, adesso sì, sta arrivando un po' di offerta, però è un sell off, bisogna vedere poi come continua, se continua il sell off, visto che comunque siamo in price discovery, abbiamo ripeto, rotto i massimi, oddio qua, se contiamo il giorno 1, l'abbiamo grattato il massimo, però il giorno 1 è sempre un po' particolare, io personalmente aspetterei, per come sono fatto, di vedere la struttura, che comunque perde un po' il vigore, quindi la perdita, cioè il riassorbimento dei massimi rotti, ed eventualmente addirittura anche un lower high, prima di allora io sinceramente, non starei troppo a scappare via, da una posizione del genere, che anzi, il retest di quest'area, e anche magari fin qua sotto, quindi fino a 65.000 sat, potrebbe addirittura essere un'occasione, per andare a fare compounding, per andare a fare un ingresso speculativo, proprio perché abbiamo un setup estremamente positivo, il settimanale che cosa dice, il settimanale anche lui è positivo, perché questa scorsa settimana ha chiuso in breakout, abbiamo retestato, insomma no, non lo vedo male per il momento, ad essere proprio sincero, poi, allora, grande Luke, anche dalla prima scappata in Trentino, dopo la zona rossa, ti si segue sempre, grande, grande, anche io questo weekend faccio la scappata in Liguria, perché non ce la faccio più, e giustamente diluvia, allora, caro il mio termination shock, che ti vedo sempre sul pezzo, io prima ti cercavo, ma non c'eri, ti voglio far diventare moderatore, sappilo, perché c'è un po' troppo spam per i miei gusti, in questa chat, quindi adesso mi studio un po' come si fa, e poi dalla prossima volta diventerai moderatore, te lo sto dicendo, allora, ciao Luca, ho fatto il passo, attenzione, attenzione, cosa hai fatto, mi sono iscritto a FTX con il tuo referra, il grande, grande passo, e potresti approfondire token con leva bull bear hedge, per qualche strategia, guarda, ne avevo fatto uno, 6.000 secoli fa, il riassunto è, non usarli, perché sinceramente, non mi piacciono, sono a vantaggio dell'exchange, sono dei token che ti fanno profittare, soltanto, sul breve termine, se ci sono dei trend, ma se tu li detieni, sul lungo periodo, e il trend è laterale, ti disintegrano i profitti, personalmente, sono contrario a quei token, engulfing bullish, sul settimanale, candela di storno mensile, abbiamo fatto benzina, e ora, to the moon, vediamo, ma è gasato ancora di più, andiamo a vedere anche, i time frame più elevati, poi lo analizziamo dopo, il grafico, allora, settimanale, vediamo, mamma mia, mamma mia, hai ragione, mamma mia, sto settimanale è pazzesco, se chiude qui dentro, è da volare via, come si fanno ad essere bullish, dove sono i miei bull glasses, non ce li ho, dove sono quando servono, adesso prima o poi li ritrovo, perché effettivamente, qua avevamo questo bel range, vi ricordate, l'abbiamo violato a ribasso, e ora ce lo riprendiamo, subito, pazzesco, allucinante, il mensile invece, cos'è, una candelina, di buy the dip, perché è tutta shadow, quindi, è difficile non essere bullish, è veramente difficile, devo fare una doccia fredda, perché sono troppo bullish, e rischio veramente, di andare in ebollizione, basta, allora, ormai è come se facessimo, aperitivo insieme, esatto, apericripto, come si suol dire, e vai sul balcone, con figlio piccolo, che gioca, prima live, grande Luca, Alessandro e Folco, almeno saluteci dai, grandissimi, grandissimi, fate giocare, il vostro bambino, e nel frattempo, voi vi spaccate di grafici, così si fa, questo è lo spirito giusto, ma secondo me, vostro figlio sarà contento, perché poi, si troverà il bitcoin, sotto al cuscino, quando gli cade il dente, parti della community a Ibiza, con la raccolta delle sigle, ebbene sì, ci starebbe tutta, ciao Luca, mi fai un'analisi grafico, Doppler, Doppler user, oggi news dalla disputa con la SEC, Doppler user, non so cosa sia, disputa con la SEC, abbiamo visto che si sta un attimino mitigando la situazione, vediamo un po', vediamo un po', ciao Luca, ave falso breakdown, tra uni e mana, su quali entreresti in questo momento grafico alla mano? Allora, fermo restando che ovviamente non sono consigli finanziari, sappiatelo sempre, questo ormai è il nostro mantra, io ti dico subito che uni l'abbiamo visto poco fa, e non è male in quell'area che abbiamo visto, cioè questa, tac, e tac, fino a qui, perché c'è il cluster, c'è il pool, scusate, eccolo qua, questo è un bel entry, su uni, perché sta stornando, su un barretest del massimo precedente, quindi, ci sta mana, è da un po' che non lo vedo, mana, mana BTC, vero, sì, eccolo, beh, 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 anche mana non è affatto male, allora, vediamo il settimanale prima, perché è un po' confusionario, caspita, è volato, è volato, ha fatto questa cannella un po' di arresto, di settimanale, tac, così, e quindi questa magari dà un attimino di freno, non lo so, forse tra i due sai che mi piace di più uni, sono sincero, mi piace di più uni, anche se, porco cane, qua c'è un bel, un bel pool di domanda, cioè, quando ho fatto dei ground by the deep, sono entrambe molto bullish, però, come grafico mi piace di più uni, sono sincero, tutto sommato, è bullish anche questo, e teoricamente, ci potrebbero essere degli entry, innanzitutto qua, a 2.500, poi ce ne potrebbe essere un altro, a 2.350, con stop loss, con chiusura sotto i 2.200, quindi qua, non è neanche male, quindi entry, stop loss, ok, non è neanche male come posizione, però, tra i due, ripeto, come grafico, mi piace un pelino di più uni, ecco, te lo dico con la massima sincerità, allora, come vedi Cardano Bitcoin, rispetto alla tua analisi di ieri, e ho visto che ha chiuso male ieri, ha chiuso male, e purtroppo, purtroppo, ci ha, cioè, ha annullato un po', quella che era l'idea, perché, cioè, se di fatto, ieri sembrava aver rotto, questo pool di offerta, poi ha chiuso, in prevalenza di offerta, quindi con tutto shadow, oggi c'è un po' di follow up rosso, quindi non mi piace moltissimo, si potrebbe comunque seguire, perché di fatto, il breakout da questi massimi c'è stato, è vero che è stato un breakout un po' sofferto, ecco, con volumi tra l'altro calanti, non lo so, non è più da long furioso, ecco, però volendo cercare chi, cioè, proprio ama Cardano alla follia, non è il mio caso, potrebbe cercare il long da queste parti, sopra i 2.290, come retest, e poi andare a mettere lo stop loss, sotto i 2.130, che sono un po' il, la comfort zona ribasso di quel range, che si è formato lì, appena prima della rottura, però, non è più bullish come era ieri, proprio per la candela che ha fatto, la candela di ieri, ahimè, è stata un po' deboluccia, allora, ciao Luca, sono entrato nel mondo cripto da poco, mi è appena venuto in mente, tra l'altro, un'altra cosa che vi volevo dire, adesso ve la dico, volevo chiederti, come lo vedi il futuro, una volta che Ethereum 2.0, sarà a pieno regime, e avrà risolto i suoi problemi, di throughput, scalabilità, fie elevate, le chain alternative, come BSC, Solana, eccetera, potranno coesistere, o sarà guerra aperta, e Bitcoin, avrà ancora ragioni di esistere, rispetto al suo fratellino, più versatile, e proiettato nel futuro Ethereum, grazie mille, allora, io sinceramente ti dico, penso che coesisteranno, le blockchain alternative, perché si sono creati degli ecosistemi, su ognuna di esse, quindi, ci sono progetti, c'è sviluppo, e semplicemente, se una blockchain viene usata, dalle masse, dal pubblico, allora, quella blockchain, continuerà a esistere, parliamo di DeFi, se una blockchain viene usata, ha liquidità, ha degli APY, ha delle opportunità, allora, state tranquilli, che ci sarà gente, che va a dare liquidità, e così vale anche, per tutto il resto, quindi io credo che, coesisteranno, fin tanto che avranno ragione, di esistere, e che non facciano la fine di EOS, che si sta lentamente spegnendo, cioè, è una blockchain che è un po' morta lì, non solo EOS, anche tante altre blockchain alternative, degli anni scorsi, perché non è la prima volta, che emerge questo trend, si stanno un po' spegnendo, quindi bisogna fare attenzione, e seguirle di volta in volta, e vedere, non essere solo accecati, dalle loro promesse future, e da quello che stanno facendo ora, ma vedere di volta in volta, che gli utenti rimangano, che le applicazioni DeFi rimangano, che lo sviluppo rimanga, e che ci sia sempre crescita e valore, riguardo invece a Bitcoin, sarò sincero, Bitcoin è una cosa diversa da Ethereum, è un simbolo, è diventato un asset, quindi non credo assolutamente, che sarà mai secondo a nessuno, è vero, Ethereum acquisirà delle caratteristiche, molto interessanti, come una minor inflattività, una minor diluizione, diventerà anche lui, una riserva di valore a suo modo, ma Bitcoin è Bitcoin, io mi sento di dire, che al momento, poi nel futuro non lo so, però guardando adesso, per come i governi, le banche, le istituzioni, stanno guardando, al mondo delle cripto, insomma stanno guardando Bitcoin, è Bitcoin al momento, l'asset con la maiuscola, Ethereum è al secondo posto, diventerà anche lui un asset, ma non, cioè nell'immediato futuro, ecco, non vedo questa possibilità, te lo dico anche questo sinceramente, e da fan di Ethereum, penso che ne vedremo delle belle, perché ci sarà una crescita esponenziale, del mondo DeFi, del mondo gaming, perché Ethereum, è quella più decentralizzata, in assoluto, di blockchain, ed Ethereum 2.0, veramente accelererà, in una maniera incredibile, lo sviluppo, in questa direzione, e magari se arriva anche in un momento, dal punto di vista storico, giusto, in termini di regolamentazioni, normative mature, gli stati che hanno finalmente capito, che cosa sono le cripto, eccetera, eccetera, allora caspita, è la tempesta perfetta, non lo so, sarebbe veramente il massimo, prima live, ma mi son perso la sigla, no, Luke sei grande, male malissimo, vabbè, avrai occasione di recuperarla, ve la farò odiare, ciao Luke, ma puoi bannarli questi bot su YouTube, puoi solo segnalarli, io li posso nascondere, io posso cliccare nascondi, nel senso che loro non possono più commentare, ma purtroppo, non mi cance, cioè devo cancellare uno a uno, credetemi, i loro commenti, è un lavoro veramente ingrato, cioè ci perdo le ore, ci perdo, e poi a volte commentano di notte, poi essendo dei bot, una volta che si scatenano, partono dieci contemporaneamente, e io non riesco a stargli dietro, ho segnalato a YouTube, ho scritto al support di YouTube, e loro dicono che purtroppo non c'è, al momento non hanno gli strumenti per fermarli, non aggiungo altro, pazzesco, buonasera Luca, riprovo di nuovo a farti una domanda, mi hai sempre ignorato finora, mi dispiace, no, non è mia volontà, giuro, che ne pensi dei fondamentali di Orn, potresti dirci la tua anche sul grafico? Allora, purtroppo sui fondamentali, non ti posso aiutare, ma sul grafico, sicuramente, ho qualcosa in più da dire, non lo conosco Orn, non so di che cosa si tratti, il grafico purtroppo non è bello, perché guarda, nonostante questa ondata rialzista che c'è stata, adesso ha fatto un costrutto di top innanzitutto, poi è tornato al low precedente, e peggio ancora, l'ha perso, guarda che roba che ha fatto, tac e retest pure, quindi se dovesse magari recuperarlo, potrebbe iniziare a diventare interessante, e insomma, ci potrebbe essere anche uno spiraglio di long, però per ora, purtroppo, siamo in fase correttiva abbastanza intensa, quindi non mi attira per nulla, ecco questo grafico, poi, dunque, 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 per fare un nodo di Solana, servono 128 giga di RAM, secondo te potrà mai essere decentralizzata? Guarda, ovviamente è una decentralizzazione relativa, ci sono, cosa, un migliaio, supporta un migliaio di nodi validatori, al massimo, quindi di certo non si può parlare della decentralizzazione di Bitcoin o di Ethereum, però rispetto alla BSC, per esempio, è anche lì tutto un altro livello, oggi avevo visto, adesso se lo trovo ve lo faccio vedere, avevo visto un meme che mi ha fatto piegare in due da ridere, a proposito di decentralizzazione, aspetta, abbiate pazienza un secondo, perché ne vale assolutamente la pena, aspettate, era nel subreddit, cryptocurrencies, adesso ve lo vado a ritrovare, era questo, no, cryptocurrency memes, scusate, guardate, vi faccio perdere un minuto, ma mi ha fatto un sacco ridere, a me, cryptocurrency memes, eccolo, mi ha fatto un sacco ridere, allora ve lo volevo far vedere, vediamo se lo ritrovo, perché era un po' giù, ho dovuto scorrere un po', però meritava, allora, a parte che non so se avete visto anche il subreddit, che quei pazzi furiosi della community, hanno fatto con i miei meme, eccolo qua, il CAPTCHA, seleziona tutti i validatori della Binance Smart Chain, e c'è CZ nove volte, a me fa ridere ste cose, io non so, mi spiace, non ci posso fare nulla, sono fatto così, dovete accettarmi per come sono, e se volete farvi due risate, ripeto, c'è anche il subreddit, con dentro i miei meme, che è veramente fantastico, fa spaccare in due da ridere, andatevelo a vedere, perché ne vale assolutamente la pena, anche questo, insomma, ve lo scillo anche qua, su, nella chat, vabbè, torniamo seri, per quanto si possa rimanere seri, allora, ciao Luca, un consiglio, se si volesse uscire pian piano da una coin, convertendola in stable, proprio per sfruttare il fatto che queste nel tempo hanno un valore stabile, pensate ci sia differenza fra uno o l'altra, mi spiego meglio, io di solito uso Boost, anche magari per poterlo utilizzare nei launch full di Binance, altri usano USDT o USDC, c'è qualche differenza che fa propendere per l'uno o l'altra, guarda, ti dico la verità, il motivo, per cui io la scelgo, è la trasparenza, e quando possibile scelgo USDC, perché USDC è regolamentata, niente di più, niente di meno, BUSD anche lei è regolamentata, quindi è assolutamente positivo, USDT, gioie e dolori, nel senso sapete che è poco trasparente, non è illegale, c'è tutta la food che c'è in giro, è assolutamente non giustificata, però non è trasparente, non si può dire che sia trasparente, quindi io tendo a preferire BUSD e USDC, per i motivi che ci siamo detti, ovviamente se poi si tratta di dover fare trading sull'exchange a solo USDT, allora vabbè, amen, si usa USDT, non c'è da impazzire, ecco. Ciao Luca, seguo sempre i tuoi video e mi hai fatto appassionare al mondo Solana, puoi spiegarci brevemente come trasferire i miei SOL da Binance al wallet dedicato di Solana? Grazie. E dunque, se tu li tiri fuori dal network SPL, tu puoi semplicemente trasferirli, i SOL tra l'altro dovrebbero essere già trasferibili sulla blockchain Solana, quindi è sufficiente trasferirli sul wallet tipo Solet, oppure carino anche Phantom di wallet, ce ne sono di belli. e se invece si tratta di andare a trasferire altri token in versione SPL, quindi nella versione di Solana, ci sono dei bridge che però al momento non ce li ho salvati, e altrimenti un metodo comodo sapete qual è, andarli a depositare su FTX e da FTX andarli a prelevare sulla network Solana, da lì è abbastanza comodo da fare, ecco si gestisce tutto facilmente con zero fee di prelievo tra l'altro, se avete un account su FTX. A proposito di Solana, ecco mi hai fatto tornare in mente la cosa, su Radium c'era stato il primo, la prima IFO si chiama, non so come chiamarla, la vendita iniziale di token, di media, non so se avete seguito che numeri ha fatto, c'era il primo, penso sia un IFO, perché non so come funziona, c'era da mettere, io purtroppo non ho partecipato, perché non sono riuscito, non ho fatto in tempo, c'era da mettere, mi pare i token RAY dentro a un pool, e tu ottenevi, no forse era più uno scambio, tipo Launchpad, te li scambiava con i token RAY, sta di fatto che, attenzione a questo Accelerator, perché fa dei bei numeri, questo media l'hanno venduto a 10 USDC, adesso è diventato FTX, è listato su FTX, ed è diventato, udite udite, 200, 200 dollari, così d'amblè, e quindi, non male, ecco, me lo aspettavo, che avrebbe fatto dei numeri del genere, però, è veramente difficile riuscire a partecipare, ecco, questo comunque, partecipa anche alla crescita del mondo Radium, la crescita del mondo Solana, che si sta muovendo in fretta, è vero, non è il massimo della decentralizzazione, non si può negare, perché hai ragione, chi ha detto prima, che ci vuole un supercomputer, per fare un nodo validatore, ha pienamente ragione, non è di certo democratica, come blockchain, perché ha un costo d'ingresso, molto elevato, però è meglio avere mille nodi validatori, adesso non sono neanche mille, in realtà, però, il target dovrebbe essere quello lì, rispetto all'averne 10, 20, 25, o cose del genere, ecco, quindi, è un compromesso, per la velocità, comunque, è il massimo che si può fare, al momento, purtroppo, quindi, dunque, chiudo un po' di finestrelle, e andiamo avanti con le domande, ciao Luca, i tuoi video, ormai sono un must, sono un neofita, ma grazie a te, mi sono orientato molto rapidamente, cosa ne pensi dei gruppi di segnali, alcuni sembrano veramente validi, ti dico un onestissimo parere, io li eviterei come la peste, perché, per dare un segnale, cosa puoi fare, allora, due cose, puoi fare, ah ecco scusate, per media bastava mettere nel pool USDC, però c'era un massimo di 450 dollari, ed era diviso proporzionalmente tra tutti, ah ecco, ecco, e io non sono riuscito a proprio partecipare, cioè sono arrivato che era già chiuso, me lo sono proprio perso, comunque dicevi, gruppi di segnali, i segnali, cioè uno li può dare in due modi, uno andando a fare analisi, e quindi a vedere possibili posizioni, con stop loss, take profit e così via, che però, cioè, seguire dei segnali così alla cieca, è controproducente, perché non esiste il segnale al 100% valido, il trading è sempre probabilistico, e quindi, è da implementare poi il tutto in una strategia, andare a seguire dei segnali alla cieca fatti da altri, ovviamente non fa parte di una propria strategia, cioè è una coppia, e la seconda cosa che invece può essere, è dei pump and dump, delle manipolazioni di mercato, cosa che è sempre meglio evitare, perché c'è a monte qualcuno che ci guadagna molto, chi li organizza, e questo è sempre a scapito di chi partecipa, quindi non è sicuramente un gioco a somma zero, e prima o dopo ci si perde tanto, poi, ciao Luca, come sempre potresti dare un'occhiata a VET USDT, ho una posizione spot aperta da dicembre, e mi sembra stia invertendo il trend, stavo pensando a uno short di copertura, che ne pensi? allora andiamolo a vedere, VET, no scusa, dov'è il grafico qua, VET USDT, vediamolo, allora in USDT tra l'altro, ah hai ragione, hai proprio ragione, in effetti ci stava già su questo retest, lo short di copertura volendo, e dunque, è bullish, attenzione, perché guarda che roba, è completamente bullish, se hai aperto uno spot a dicembre, sicuramente sei molto molto contento, al momento, poi in USDT c'è anche da dire, che è un po', cioè sente un po' anche il movimento di Bitcoin, e Bitcoin non sembra essere bearish, VET BTC, come è scusa, ho la deformazione di dover guardare sempre in BTC, eccolo infatti, anche lui ha il suo, il suo cluster di resistenza, che è stato retestato in maniera bearish, e potrebbe andarsi a dirigere da queste parti, ma guarda, sulle altcoin è un caso un po' particolare, perché faccio fatica a applicare, il ragionamento dello short di copertura, che faccio su Bitcoin, però, se lo facessi pari pari, mi direbbe, di andarlo, cioè mi avrebbe detto, di andarlo ad aprire, un piccolo short ovviamente, di copertura, su questa zona di retest, perché è andato a testare, a dare una testata, proprio nel senso letterale della parola, alla liquidità che ci si trovava dentro, e quindi, che dire, ma, anche se poi, in realtà, questa reazione della domanda è positiva, e adesso sembra essere una sottospecie di test e spalle rovesciato, non lo so, potresti vedere adesso come si assesta, cioè, se inizia a muoversi in lateralità, se va a riattaccare il low precedente, senza saperne leggere, ne scrivere uno piccolo, lo puoi già fare, perché di sicuro male non fa, è un take profit, ti incamere una parte di profitto, ed eventualmente, poi alla peggio, se si ritorna da queste parti, lo si chiude, o ci si mette lo stop loss lì, non mi sembra che muoia nessuno, valuta un po' tu, è un po', cioè, mi fa strano pensarlo sulle altcoin, perché mi viene da pensare, rimediabilmente, alla situazione poi di bitcoin, perché di fatto, poi la va a influenzare, volevo chiederti, tu cosa ne pensi, cosa intendi con short di copertura, e come si fa a fare un take profit, con uno short, guarda, alla perfezione arriva, per questa domanda, perché lo short di copertura, è da vedere come, immaginati tu di avere, VET spot, quindi comprato VET a dicembre, VET la coin, non la ceretta, e l'hai detenuta, fino ad adesso, e adesso dici bene, vorrei incamerare una parte di profitto, perché c'è l'inversione di struttura, perché ho fatto abbastanza profitto, voglio assicurarmi una parte, hai due possibilità, uno vendere, due, se vuoi holdare a lungo, e vuoi detenere la tua porzione di portafoglio su VET, la maggioranza magari, puoi aprire uno short di copertura, cosa vuol dire, andare a shortare, VET e USDT sul future, ad esempio, usando magari lo stesso VET come collaterale, mi pare che su Binance ci sia il coin M di VeChain, e quindi tu detieni i tuoi VET, una parte li usi per aprire uno short, e in questo modo non hai venduto VET, ce li hai sempre lì, e hai però aperto uno, non cambia niente di fatto, cambia dal punto di vista contabile, cioè io lo utilizzo, perché avendo comunque sempre lo stesso collaterale, non vado a intaccare, le diverse porzioni di portafoglio, cioè io lo faccio con Bitcoin, ma con le altcoin si può ragionare in maniera fine, se il 50% del mio portafoglio deve essere allocato in Bitcoin, dico una cifra a caso, e una di quelle parti lì la uso per andare a fare lo short, è sempre in Bitcoin, se avessi venduto in liquidità, sarebbe passata al comparto liquidità, e quindi al momento del ribilanciamento, poi cambiano le cose, è una cosa un po' tecnica, un po' complicata, però il senso pratico non cambia, come fare take profit, dal punto di vista operativo, ci sono queste piccole cosine qui. Allora, dunque dunque dunque, dove siamo finiti, mi è saltata di nuovo la chat, se un sito DeFi dovesse sparire, si riescono a recuperare i fondi dallo smart contract, oppure sono persi, come accadrebbe dando i fondi a qualsiasi Cefai? No, guarda, il sito è soltanto un vestito, che copre, che veste lo smart contract, e ti semplifica il suo utilizzo, tu tranquillamente puoi interagire anche direttamente con lo smart contract, chiamandone le funzioni, e non è facile, sicuramente, ma io mi aspetto che, se per qualche motivo un sito dovesse saltare o venire accherato, gli sviluppatori, penso che facciano qualcosa di alternativo, che ti permetta in maniera user friendly, di interagire con lo smart contract. Comunque, lo smart contract è il cuore operativo, il sito è un vestito, che ti permette di interagirci in maniera semplificata. Ciao Luke, domanda tecnica, ho sempre lo stesso dubbio, il tuo cavallo di battaglia, break and retest, fantastico, se impostare in via preventiva dei limit buy sul pullback, oppure aspettare che arrivi sui supporti più significativi, magari scendendo sulle 4 ore, e attendere un segno di domanda convinto, engulfing, hammer, morning star, eccetera, magari condito con volumi, quando sarebbe preferibile operare in un modo, piuttosto che nell'altro, guarda, sono due operatività diverse, addirittura si potrebbe anche non aspettare il retest, e andare a operare direttamente sul break, ci sono dei profili di rischio differenti, andare a mettere subito dei limit buy sul pullback, ovviamente ti permette di ottenere di solito un rischio rendimento migliore, più alto, cioè più sbilanciato verso il rischio, a fronte comunque di essere scoperto verso la possibilità di un falso movimento, ti faccio un esempio concreto, guarda, cosa possiamo andare a vedere, vediamo se bitcoin ci può dare ispirazione, ecco guarda, facciamo un esempio proprio su quest'ultimo movimento qui, qui c'è stato il breakdown, ok, e allora, supponiamo anche di essere qui addirittura, abbiamo rotto il precedente minimo, lower low, fatto, e allora io cosa potevo fare? Bene, metto già il limit sell short, su questo livello qui, con il mio stop loss, e quant'altro, il problema è che cosa succede? candelona, perché c'è un falso movimento, e io mi espongo quindi a questo rischio, a questa possibilità, di contro, cos'altro poteva succedere? Beh, poteva succedere che, andiamo a vedere se trovo un esempio anche di questo tipo, sarei molto molto fortunato, secondo me no, purtroppo, non lo so, vabbè, immaginatevi che, non lo so, facciamo un disegno, che si capisce meglio, abbiamo un breakout, tac, e poi, noi andiamo a puntare sul retest, andiamo a mettere il limit buy, qui, supponiamo, perché qua c'è qualche shadow, e noi ormai sappiamo che c'è il pull, che finisce dal massimo delle shadow, prima della rottura, ok, ormai ve l'ho ripetuto alla nausea, e io vado a mettere il limit buy subito qua, cosa mi fa? Mi fa, pam, pam, una shadow subito fulminea, e poi mi va a chiudere qui, e se io sto ad aspettare un po' troppo, rischio di perdermi l'entry ideale, e magari vado a entrare qua, perché aspetto appunto il costrutto di domanda, o quello che è. Sono due operatività differenti, che mi viene da dire, se la situazione è più bullish, può essere più utile, più interessante, più conveniente, andare a mettere l'ordine preventivo, l'ordine limit subito, dopo il breakout, se la situazione è un po' dubbia, è un po', cioè un interrogativo, allora forse mi conviene, andare ad aspettare qualche confermina in più, per evitare di fare danni, in generale se sono lungo trend macro, cioè se il macro è bullish, e io sto andando a cercare il long, ci sta anche buttarsi un po' di più, e rischiare un po' di più, quindi con limit, se magari è laterale, o c'è una situazione un po' strana, un po' anomala, non c'è particolare impulso di domanda, e così via, andare subito a mettere il limit buy aggressivo, è un po' più rischioso, questo è il mio parere personale, quindi ci sta aspettare, avere un po' di cautela in più, questo in generale vale in tutte le posizioni, poi, allora, 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 dove siamo, potresti guardare fort, conosci il progetto, tutti gli exchange l'hanno listato, possiamo confrontarlo con uni, ma fort in realtà è un po' diverso da uni, perché non, cioè uni è quella di uni swap, fort, quella di amplefort, che è quella stable coin elastica, insomma, non è all'altezza di uni, se devo essere sincero, però me l'ero segnato da studiare assieme a MDEX, me li ero segnati, purtroppo non ho ancora fatti i compiti però, potete farmi la nota sul diario, la nota sul taccuino da boomer della consob, anzi, allora, 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 procediamo, è possibile vedere la dominance per categoria, tipo DEX, DEFI, eccetera, no, però ci sono degli indici molto interessanti su FTX, che è sempre sul pezzo, su queste cose, guardate, allora, tra l'altro sono anche in trading view, però non mi ricordo come si chiamano, vediamo, dunque ci dovrebbe essere SHIT, che è quello delle SHIT coin, eccolo, SHIT PERP, che va a tracciare le low cap, ok, andandole a pesare sulla loro capitalizzazione, se vi interessa anche sapere quali, vi fa anche vedere, dov'è, 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 qua in fondo sarà, aspettate, faccio un command F, SHIT, eccola, no, però non è qua, eccolo qua, SHIT coin index, contiene tutte queste SHIT coin, ok, quindi queste che vedete qua, quindi questo è il modo per seguire le low cap, l'andamento delle low cap, banalmente, poi abbiamo il mid cap, mi pare, eccolo, mid PERP, che è quello, è un indice che va a seguire quelle a media capitalizzazione, possiamo andarle a vedere di nuovo, eccole, queste che vedete, e poi, e poi, c'è alt, alt PERP, che in realtà, sono quelle principali, sono le alt coin più capitalizzate, poi, se non erro, ce ne sono anche degli altri, tu parlavi di DeFi, ci dovrebbe essere proprio anche DeFi, eccolo qua, DeFi PERP, non è la dominance, però ti fa vedere la capitalizzazione, ok, delle coin del mondo DeFi, che sono queste che vedi qua, in basso a destra, che adesso non vedi, perché c'è il mio faccione, però, secondo me, ci sono anche qua, DeFi, eccole, queste, tac, e poi, vedi, ce ne sono tanti altri di indici, c'è la DRGN, che sono, non so che cosa sia, queste coin, le exchange coin, quindi BNB, Wobby, OKX, Leo, FTT, e poi, c'è anche qualcos'altro, Wall Street Bets, vabbè, lasciamo stare, e poi c'è, Oli, la Santissima Trinità, Serum Solana, FTT, vabbè, e basta, e poi no, recentemente è stato aggiunto anche quello del mondo solana, che si chiama, S, S, cos'era, non mi ricordo, Seco, Seco, eccolo, Seco, che contiene Solana, Serum, Maps, Radium, Oxygen, Bonfida, e Liquid, ed è un, sono degli indici per andare a monitorare, sì, delle categorie, non è la dominance, ma vedi un po' l'andamento del loro prezzo, può essere utile, secondo me, poi, procediamo con le domande, ciao Luca, dove, sono entrato, no, questa l'avevo già letta, raramente riesco a vederti in live, causa famiglia, ma ti seguo sempre sul tubo, grande, mi fa piacere, e domanda, miglior piattaforma, metodo di rendimento per Maker, e pareri, analisi del grafico, mi cogli veramente impreparato, perché, caspita, non ho mai, ho il dato Maker, e non l'ho mai messo a rendita, porco cane, ma non c'è lo staking di Maker, su MakerDAO, sai che non lo so, guarda, non voglio fare, fare, dire cose che non so, quindi, io chiedo a voi, amici della community, se qualcuno sa, cosa consigliare, per la rendita di Maker, qualcuno appunto proponga, proponete, che fa piacere, allora, Polkadot, andiamo a vedere Polkadot, .btc, eccolo qua, allora, .btc, benissimo, sta continuando, secondo i piani, ovvero, il nostro range, che siamo andati, ad aggiornare, perché prima avevamo il mega pool di domanda, vi ricordate, adesso lo abbiamo contestualizzato, qua dentro, sotto i 58.000 SAT, e, fondamentalmente, si muove esattamente, tra qua e qua, bene, tra i 57.000, e i 75.000, quindi, ogni pesca, da questo pool di domanda, è un long, potenzialmente, perché il macro è estremamente bullish, come potete vedere, e quindi, in un range di lateralità, dopo un breakout dei massimi, in un macro bullish, cosa volete mai fare? Andare a cercare il setup long, e questo è un bel setup, adesso abbiamo cozzato, proprio contro il range middle, incredibile, la precisione che ha DOT, e vediamo, perché se ritracciamo, di nuovo, qua c'è il setup long, quindi, attenzione, occhi puntati, poi, 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 potresti dare un'occhiata, al grafico di Fox Finance, che cos'è? Cosa sarebbe? Bakery Swap, Bakery Swap, cos'è? Bake Boost, non c'è BTC, no, c'è Bake Boost, andiamolo a vedere, andiamo, Urk, che è successo? Perché ha avuto sto pump? Incredibile! Comunque, dopo questi pump, purtroppo, non è facile andare a trovare la posizione, perché proviamo ad andare a vedere anche sull'intraday, cioè, qui ha fatto il lower eye, quindi si potrebbe andare a cercarlo qua, su questo pool sotto i 4,15, è un po' rischiosetta la posizione, però, cioè, l'unico long che vedo, ripeto, in maniera abbastanza aggressiva, è qua sotto i 4,15, e basta, altrimenti c'è da aspettare un po' di più, che ritracci come Dio comanda, come Safe Jesus comanda, poi, 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 ciao Luca, saluti da Londra, grande, beato, ho notato che su Curve c'è la stable coin EURS, esattamente, con un APY interessante, yes, ce l'ho su YouHodler, ma non sono riuscito a trovare il modo di ritirarla, senza prima convertirla, hai un'idea di come si faccia a fare il withdraw direttamente, cosa ne pensi di EURS? ma guarda, è interessante come coin, cioè, ha il suo perché, non è, non è, c'è una stable coin valida, assolutamente, YouHodler, io non l'ho mai usato, perché non mi piace granché, ve l'avevo spiegato, come modello, e, quindi, non te lo so dire, sul come ritirarla direttamente, senza che, strano che non te lo faccia fare, però, perché, dovrebbe essere un ERC20, un normale, come le altre, non saprei, però, ti quoto quel pool lì di Curve, perché è anche un modo interessante, per esporsi all'euro, tra l'altro, e non al dollaro, poi, dunque, hai dato un'occhiata alle nuove piattaforme DeFi su Polygon, guarda, io ho dato un'occhiata a Curve e ad Aave, alle altre, sinceramente no, perché quelle lì, direi che sono il meglio in circolazione, però, ho visto che sta crescendo a vista d'occhio Polygon, è pazzesca, come sidechain, come layer 2, e quindi, sicuramente vale la pena seguirla, su quello non ci piove, e QuickSwap, anche interessante, ho visto, che mi pare sia sempre su Polygon, ho una domanda per te, invece di lasciare i soldi fermi sul conto corrente, che poi ti telefona Fineco e ti chiude il conto, su Binance esiste qualcosa a zero rischi, che dia una buona percentuale di interessi senza rischiare il capitale, grazie mille, complimenti, guarda, purtroppo lo zero rischio non esiste, non esiste nel mondo cripto, non esiste neanche nella finanza tradizionale, esiste il rischio basso, però zero rischio nelle piattaforme di lending, scordatelo, perché purtroppo no, neanche Nexo, BlockFi, così, non sono a zero rischio, sono a rischio basso, ma il rischio c'è sempre, il rischio, cioè, come avere la liquidità, non c'è, no, è un rischio più alto, ovviamente, però, bisogna fare un po' i propri conti, valutare quanto sia disposti a rischiare, per avere un rendimento, e quindi decidere un po' come investire i propri fondi. Allora, sai se esistono piattaforme di DeFi su BSC, con order book e ordini limit, dunque, so che c'era una piattaforma che permetteva di fare gli ordini limit su PancakeSwap, ma aveva il suo token, c'era un po' una porcata dietro, e non mi ricordo come si chiama, no, non mi viene il nome, però sì, qualcuna c'è, qualcuna c'è, Allora, ciao Yuki, in passato dicevi che Bitcoin Cash non aveva utilità, l'utilità che ci si aspettava, ora come mai invece sta cambiando nettamente trend, da un mesetto questa part, no, mi è saltato, Bitcoin Cash, guarda, io credo ancora che sia abbastanza una shitcoin, ad essere sincero, sta cambiando trend, effettivamente, sembra che si voglia riprendere, ma io penso che sia più che altro speculazione, no, qua in effetti sembra voler chiudere un bottom, per il momento, anzi, sembra averlo già chiuso sul settimanale, se guardiamo questo livello qua, tac, però è Bitcoin Cash, cioè, non lo so, dire di aprire una posizione su Bitcoin Cash, sarebbe veramente, non lo so, contro qualsiasi principio, sano principio, si potrebbe speculativamente, da queste parti, solo che adesso è già partito, è già stato testato, con lo stop loss qua sotto, ma altrimenti, cioè, correre dietro a Bitcoin Cash, non me la sento, sinceramente, di andare a cercare, a tutti i costi long, in una situazione, dove sta dando il primo colpo di reni, dopo un down trend, della durata di un anno e passa, non mi dice niente, ecco, poi, dunque, ciao Luke, con 500 euro, che cripto mi consigli di puntare, e guarda, non saprei, qua sento odor di gambling, io ho fatto un video, dove dicevo come investire 1000 euro, più o meno, alla fine, la logica che userei è la stessa, quindi, dacci un'occhiata, che ti fa bene, poi, hai mai provato Capitalize.ai, per creare bot personalizzati, è un'ottima alternativa a 3Commerce, per chi ha poca dimestichezza, con la programmazione, ed è gratuita, guarda, sai che ci avevo dato un occhio, perché me l'aveva scillato, non mi ricordo chi, ed effettivamente era carino, l'avevo usato su FTX, però, e, volevo fare, adesso lo farò, me lo sto preparando, un'altra piccola serie di video, due o tre, sui principali bot, che esistono, per fare trading automatico, quindi per collegarsi agli exchange, e automatizzare, lo facciamo, dai, e ci andiamo ad aggiungere, magari anche questo, poi, 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 cosa ho visto, ah, d'altro, no, mi continua a saltare la chat in fondo, perché, secondo me, scrivete un sacco, cosa ne pensi di cake, solo cose belle, perché si sta inventando qualsiasi cosa, per andare a bruciare la supply, e quindi sta creando scarsità, sta creando valore, 3Commerce il migliore, sì, 3Commerce anche secondo me è il migliore, perché è assolutamente una, cioè, è il più completo, il più complicato anche, ma è anche il più completo, ciao Luke, qualche amico cripto investitore, mi ha consigliato alcune alt, tra cui, Student Coin, Moonboys, SafeMoon, beh, smettila, smettila di trollarmi subito, che dici, devo seguire il consiglio, devo cambiare amici, poi vorrei chiederti un'opinione, su TheMoonDogCoin, Un token che teoricamente aiuta i cani randaci, sembra un progetto molto interessante, un saluto e buon weekend, complimenti per le tue live, cosa devo rispondere io, va bene, dai, come troll mi sei piaciuto, però io spero, cioè, spero che sia una trollata, perché altrimenti, cambia amici, cambia, cambia tutto, perché non ci siamo, perché hai fatto un elenco di shitcoin, fantastiche, ci manca solo SafeJesus, e poi siamo al 100%, allora, con 2000 euro conviene fare staking, così, d'amblè, lo staking è da fare su certe coin, cioè non sugli euro, quindi, non lo so, ragiona su come li vuoi investire, strutturati un portafoglio, e valuta se vuoi tenerli liquidi, se vuoi investire in cripto, eccetera, 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 poi, vediamo, domani che fai, primo maggio, e domani pensavo di emigrare in quel della Liguria, se finalmente che si può, che ci si può muovere, e così passo in autostrada davanti a Voghera, e posso fare un saluto anche alla casalinga, già che ci sono, poi, 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 che ne pensi di Ellipsy, se della sua pool con BNB su PancakeSwap, o meglio quella su Ellipsy stessa, con APR più alti, guarda, meglio usare Ellipsy stessa, di sicuro, anche perché poi puoi metterli in lock, gli EPS, andare a pompare i rendimenti, insomma, è bella da usare Ellipsy, sì, io sono assolutamente pro, e adesso è il momento però dei grafici, oserei dire, cosa ne pensi della situazione attuale di Ripple? Guarda, ne abbiamo parlato all'inizio, quindi, nella differita lo troverai, ciao Luca, ti saluto da Dubai, dopo aver raggiunto il centesimo, sui miei safe moon, e la mia leva 100 per su Doge, ci credo, bisogna, per fare tutto quel take profit lì, ci vuole un posto, un paradiso fiscale, allora, benissimo, avevo letto un'altra, no? Un'analisi di Phil, dai, adesso analizziamo anche Phil, andiamo a vedere, Phil BTC, e poi gli altri grafici, dunque, Phil BTC, guarda, avevamo, eravamo giusto rimasti, su questa specie di range, però occhio alla candela di oggi, è antipatica, c'è sempre questo range, alla base, quindi, da 2.0, e poi 2.58, a 2.64, questo pool di domanda, e poi anche sotto, volendo, vedi che c'è, ci sono queste due shadows lunghe, quindi, l'entry papabile, sarebbe da 2.64, da qua, fino a, 2.40, questo qua, 2.400, stop loss, qua giù, tac, ok? Questa è una possibile posizione su Phil, che di fatto, sembra che, stia facendo una cosiddetta bull flag, è bullish Phil, è messo molto bene, ora è il turno di Bitcoin, tenetevi forte, indossati bull glasses, perché, siamo carichi, allora, noi ci eravamo lasciati, con, la, un'opportunità da seguire, su Bitcoin, che sarebbe stata, un'altra flessione, dopo questo, questa zuccata, in particolare, cosa avevamo visto, questa area, 51.003, purtroppo, non è stata retestata, perché, subito, la domanda, si è fatta sentire, al primo tentativo di dump, ha piazzato, un candelone verde, che di fatto, configura, un gra, che botta, scusate, ho dato una botta alla scrivania, configura, un grafico, che è bullish, sul daily, sul settimanale, e sul mensile, come dicevamo prima, non so se siete, connessi, dall'inizio della live, avevamo visto, il grafico settimanale, mensile, adesso lo riguardiamo anche, sono bullish, veramente in maniera pesante, ma anche il giornaliero, guardate, giusto a fine settimana, sta rientrando, nelle grazie, perché, abbiamo innanzitutto, sancito, che questo è un falso breakdown, quindi, è un'anomalia, il lower low, che abbiamo fatto, è un falso lower low, per l'appunto, abbiamo, riassorbito, il dump, siamo rientrati, abbiamo fatto il nostro low reclaim, che infatti, era il primo setup long, che avevamo visto, la settimana scorsa, flessione, e ora, follow up di domanda, che va ad attaccare, direttamente, i 55.600, questo livello, che è un altro livello chiave, perché guardate, è questi due low precedenti, questo clusterino qua, e appena sopra, c'è quest'altro low, quindi, tutta quest'area, che stiamo rettangolando, che stiamo delimitando, con un rettangolo, ecco, è un'area chiave, che se la andiamo a riprendere, è una ripresa del range middle, possiamo chiamarlo range middle, perché è il punto medio, dell'intervallo laterale, e andiamo quindi, diretti a puntare, di nuovo, la zona dei massimi, ci sono rimaste, tre resistenze importanti, questo pool di liquidità, che c'è da vedere, se è ancora valido, perché, fin qua, era fortissimo, poi è stato rotto, e poi però, è stato tagliato, come il burro, quindi, purtroppo, non sembra tanto forte, io lo tengo, solo per l'importanza, che aveva qua indietro, e quindi, vale la pena, uno sguardo darcelo, comunque, con la reazione, che il prezzo avrà, esattamente qua contro, e poi, abbiamo, quest'altro pool, sempre un ex pool, di domanda, che in realtà, qua ha avuto, un po' di reazione, guardate, shadow shadow, quindi, di fatto, ha reagito, molto più di questo, a dire il vero, e infine, abbiamo il massimo, quindi abbiamo, queste tre resistenze, nel caso in cui, andiamo a riprenderci, anche questo, range middle, che dicevamo, si aprono, volendo, altri setup long, sul prossimo ritracciamento, quindi, sempre nella zona range middle, fino ad arrivare, volendo, ai 54.900, con target, 1, 2 e 3, perché siamo ancora nel range, per questo, io do ancora i target, volendo, si può anche tenere aperta, la posizione in ottica trend follower, o meglio, magari, far dei take profit parziali, e non totali, su questi tre livelli, e tenersi una piccola, cosiddetta moon bag, da tenere, nel caso in cui, rompiamo i massimi, e ce ne andiamo, appunto, verso, the moon, vediamo, perché, questo, ovviamente, che vi ho mostrato ora, è tutto il bullish scenario, quindi, lo scenario bullish, che prevede, una situazione, in mano alla domanda, se al contrario, dovesse rientrare in gioco l'offerta, andiamo a vedere lo scenario bearish, quale potrebbe essere, flessione, quindi andare a stornare, andare a fare, un lower low rispetto a questo, e andare di nuovo, a giochicchiare, con quest'altro low, e quest'altro low, più ne perdiamo, e peggio è, adesso all'appello, si è aggiunto, anche questo, che qualora venisse perso, oddio, c'è sempre, teoricamente, questo setup, long, però, adesso, vedete, avendoci costruito, un altro low, un higher low, sopra, diventa meno appetibile, forse, perché, se andiamo a ritornare, qua, comunque, uno step indietro, non lo so, non mi convincerebbe, più di tanto, anche se, poi non è male, se lo si guarda, più dall'alto, non lo so, sono un po', combattuto, su, su tutto quanto, perché, in effetti, guardandola, ve l'ho detto, sono troppo bullish oggi, se noi guardiamo, questo cluster, come la resistenza principale, ci immaginiamo, adesso, di ritornare qui, se poi andiamo a fare, una cosa del genere, è comunque, una bella, un bella, un bella damo ed eva, un bel triangolo rialzista, quindi, no, mi, mi correggo, questo setup long, rimane sempre valido, eh, scusate, è un'analisi improvvisata, e, penso a voce alta, ma vi condivido, appunto, quello che penso, sì, questo è sempre valido, anche se ci andiamo a stornare, a meno che ovviamente, domani non facciamo un dump così, che in tal caso, non lo so, diventa un po' più complicato, perché diventa una cosa più in preda all'offerta, una stangata del genere, e quindi, queste sono un po' tutte le possibilità che vedo su Bitcoin, nel caso dello scenario bearish, di andare a riperdere questi due low, 1 e 1,2, come al solito, andiamo ad aspettarlo, poi in zona 44k, che sarà un po' il punto di decisione, se vogliamo andare a perdere tutto il range di top, oppure a conservarlo, e da lì poi si decide la strada bullish o bearish, anche sul macro, poi procediamo con l'analisi di Ethereum, che come abbiamo visto, oggi è un po' in flessione, guardate che roba, engulfing bearish, pure per lui, quindi, adesso vediamo poi come reagisce, in ogni caso, possiamo addirittura andare a, osservare dei possibili setup, perché se noi andiamo a prendere da qua, caspita, qua è purtroppo, è un po' complicato, perché vedete, è ampia come zona, come area, cioè, a me verrebbe da pensare, che questo è il primo setup long, con stop loss, qua sotto, però è anche estendibile, cioè, no, viene, viene meglio esteso, perché qua sotto, comunque, c'è questo cluster grosso, e quindi, questo, tac, io lo unirei, questo è tutto un gigantesco entry, e lo stop loss, è in caso di chiusura, qua dentro, quindi perdiamo, questi due massimi, che abbiamo rotto, rientriamo all'interno, di questo, di questo vecchio, non lo so, di questa vecchia area, che ci eravamo lasciati alle spalle, facciamo un top puntiforme, e quindi la situazione diventa un pelino più bearish, ecco, e questo è Ethereum, per il resto, niente altro da dire, perché, se adesso andiamo a pescare un po' da qui, e poi ripartiamo, non c'è niente di male, il fatto che ci sia l'engulfing bullish, rende possibile anche una lateralità, c'è un attimino di freno, ecco, su Ethereum Bitcoin, che mette un attimino di pausa, di stasi, e ci porta a riassestarci, a ritrovare un po' di equilibrio, però, il tutto con un retrogusto bullish, quindi ci sta a cercare sempre il long, se andassimo a fare un po' di lateralità, di nuovo, ci sta poi andare a cercare, sul range low, come abbiamo fatto qui, degli eventuali entri tattici, su delle zone di liquidità, benissimo, allora, a quanto siamo di tempo? 59 minuti, quindi, facciamo che leggo ancora una domanda, o due, allora, ho contattato il supporto di Uodler, EURS, ah, niente, non si può, non si può andare a ritirare EURS, si deve andarlo a convertire, poi, niente, mi spiace, guarda, chissà perché, non avrà liquidità, allora, che libri consiglieresti per iniziare a studiare il campo degli investimenti cripto? Guarda, volevo fare un video, credo che lo farò la prossima settimana, il video su alcuni libri da leggere, me l'avete chiesto da praticamente sempre, e quindi direi che è il momento, un'occhiata alla nuova coin, Vogueira BTC, dai, vi prego, qualcuno le crei su Binance Marchain, vi supplico, creiamola, cosa ne pensi di Tor Chain? Ottima, ottima, cross chain è spaziale, anche lei sta spingendo molto, RUN BTC, possiamo andarla a vedere, è in lateralità, positivo questo, e quindi, si può andare a cercare il long da queste parti, qua, l'avevamo già visto, 23.000, 24.000, stop loss qua sotto, uno step indietro, ecco, da vedere appunto, se adesso facciamo, ci muoviamo un po' così, peschiamo il long sulla liquidità, e seguiamo poi un'eventuale rottura a rialzo. Bene amici, vi ho asciugato abbastanza, e, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio come sempre di avermi seguito, grazie a chi si è abbonato, utilizzando Amazon Prime, vi ricordo che potete farlo gratuitamente, e è un piccolo sostegno che date al mio lavoro, al mio canale, e vi ringrazio di cuore, grazie anche a chi usa i miei referral link, che trovate sempre in descrizione su YouTube, e ve li scillo ogni tanto, anche in giro per Twitch, è un modo sempre per sostenermi per voi a costo zero, anzi, ogni tanto ci sono anche dei bonus, delle promo, quando riesco sapete che ve le faccio, molto volentieri, e basta, vi ringrazio di nuovo, vi auguro un buon weekend, speriamo che i tori vincano, che sia sempre più bullish bitcoin, perché mi piace, quando vedo del verde in giro, insomma, e poi non ho ancora aperto lo short di copertura, quindi è assolutamente il momento giusto, per pompare, di nuovo ragazzi, buon weekend, buona serata, ci vediamo lunedì, penso sempre alle 19, d'ora in poi mi sa che siamo sempre alle 19, ciao a tutti!